salve a tutti carissimi e bentornati in questo spazio di condivisione e riflessione o di riflessione condivisione come preferite allora quest'oggi rispondo ad una domanda difficile per certi versi molto semplice è che noi siamo estremamente complessi estremamente condizionati e quindi le domande semplici le risposte semplici divengono particolarmente complesse perché noi complessifichiamo tutto un po di video fa in un passaggio dissi dobbiamo tornare a vivere veramente dobbiamo scoprire la vera vita allora un'amica che segue il mio lavoro mi ha scritto che cosa intendi cosa significa vivere veramente allora facciamo una prima distinzione possiamo dire che tutti noi sino a quando non moriamo esistiamo è difficile confutare il fatto che esistete per il fatto stesso che pensate state ascoltando è prova di vostra esistenza diciamo che potete dubitare di qualunque cosa ma non del fatto che esistiate perché il poter dubitare deve avere qualcuno che sta dubitando potete dubitare della mia esistenza magari io sono una percezione una costruzione della vostra mente ma che qualcosa in voi sia non vi è dubbio almeno spero che non abbiate dubbi anche su questo alcuni hanno dubbi anche su questo però lì a quel punto iniziamo ad entrare in uno stato un po' problematico quindi la maggior parte delle persone possiamo dire che esiste c'è però non sa perché non sa chi è e soprattutto si muove sopravvivendo si muove reagendo alla vita quindi è mossa da meccaniche condizionamenti che non conosce e pertanto la sua vita è robotica è programmata veniamo programmati sin da bimbi abbiamo ognuno un certo condizionamento in linea di massima le strutture base sono simili perché noi uomini siamo tutti nelle strutture basi basilari simili e per questo si può fare un bel lavoro se io ho visto dentro di me certe strutture posso indicarvi la strada per vederle demolirle perché siamo simili in realtà per quanto ci differenziamo con soprattutto per sciocchezze alla base gli elementi essenziali sono estremamente simili rotta la struttura di condizionamento ciò che realmente è la parte più vera dentro di noi è unica ecco qui qualcuno dice allora siamo diversi no è unica nel senso che ogni essere ogni essere vivente anche un uccello un gatto una pianta è irripetibile nella sua peculiarità nella sua essenza però la sua irripetibilità la sua unicità è anche totalmente relata a tutto il resto fa parte del movimento dell'esistenza però sino a qua diciamo che potrebbero essere parole vuote provate un po a pensare perché nei vangeli gesù dice deus caritas est ovviamente l'avrà espresso in in aramaico antico però poi i vangeli sono stati tradotti in latino ed è una delle delle frasi più famose è di solito scritta all'ingresso delle chiese di un'infinità di chiese a lettere cubitali deus caritas est dio è amore carità significa amore perché gesù ha detto questa cosa perché ha detto il mio unico comandamento è che vi ammiate gli uni gli altri come io ho amato voi e cioè se andiamo a vedere l'esempio pratico pragmatico che ha dato il suo amore è totale incondizionato è un amore che l'ha portato al punto di sacrificare la sua vita per testimoniare la verità per testimoniare l'amore di dio ma la domanda rimane perché ha usato questa parola cosa significa dio è amore allora forse se perché ho scoperto facendo i miei colloqui di counseling e analizzando un po la vita delle persone ho scoperto che alcune persone non poche non sono nemmeno state innamorate una volta nella loro vita innamorate profondamente di quell'amore che ti fa sentire almeno per un po capace anche di dare la tua vita per qualcuno ti fa sentire che vorresti morire tu piuttosto che accadesse qualcosa a quella persona e moriresti con gioia ti fa sentire parte di quella persona in un modo talmente appagante ti fa sentire per la prima volta forse di non essere più solo chiuso dentro la tua struttura egoica dentro i tuoi pensieri quel senso di isolamento ecco alcune persone non hanno mai vissuto questo tipo d'amore sono state infatuate desideravano bramavano stare con quel come mi viene mi verrebbe da dire a quel punto non puoi neanche più dire quella persona con quella con quell'anima che hai percepito di amare ma con quell'individuo con quel soggetto bramavano quel soggetto io voglio quella donna quell'uomo lo lo desidero desidero più che altro avere una relazione fisica accoppiarmi controllarlo possederlo questa possiamo definire un infatuazione colma di me del mio desiderio di godere di avere di piacere ma non c'entra lo capite che non c'entra nulla con quel travolgente amore che vi fa sentire sollevati da voi stessi leggeri dimentichi di voi stessi io credo che gesù cercasse una metafora per spiegare all'uomo comune cosa significa abbandonarsi completamente all'essenza all'assoluto come lo chiama krishnamurti adesso leggeremo due righe la cosa che più si avvicina all'esperienza ultima alla scoperta dell'essere profondo che abita ogni uomo è l'innamoramento potente totale incondizionato ahimè questo tipo di innamoramento forse alcuni di voi l'hanno conosciuto però poi nella relazione nella dualità spesso subentra la mente la paura di perdersi il dolore magari anche la morte la perdita e infatti a volte le persone che hanno veramente amato tanto qualcuno vedendo morire quel qualcuno hanno una grande possibilità o di risvegliarsi al sacro a dio o di soffrire immensamente perché hanno la percezione che gli abbiano strappato una parte della loro anima quella fusione che percepivano che gli faceva sentire il divino gli è stata sottratta è come se avessero visto la morte di dio la morte della loro stessa vita e fossero rimasti in vita e quindi divengono degli zombie rimane comunque la grande possibilità per chi ha patito questo dolore l'ha vissuto in questo modo di poi fare un percorso di trasformazione e ritrovare quella presenza quella persona amata in ogni cosa perché la quella bellezza quella fusione che è stata offerta dall'incontro con una persona se riusciamo a morire completamente dalla nostra dalla nostra personalità individualità ritroviamo quella luce quella bellezza in ogni forma di vita però per il momento potrebbero essere unicamente parole però spero che già queste parole abbiano dato un po' un'intuizione quindi Deus Caritas Est Dio non è quella persona che amo Dio è l'amore è l'amore che sta fluendo fra me e quella persona è che noi avendo una personalità strutturata cristallizzata poi lo traduciamo in io amo lei lei non c'è più è morta e così soffochiamo quella presenza quindi laddove c'è amore c'è Dio laddove c'è Dio c'è amore e pertanto c'è vita un'altra cosa che mi sono sempre chiesto leggendo ad esempio i Vangeli ma lo troviamo anche appunto nel Dhammapada nel del Buddha o in altri grandi testi dell'antichità o passaggi dei testi antichi e anche moderni Dio vuole che sia fatta la sua volontà e qual è la volontà di Dio la volontà di Dio non può essere separata dalla natura di Dio pertanto l'unica volontà di Dio è che l'uomo divenga Dio divenga amore la volontà di Dio è che l'uomo realizzi pienamente Dio che significa realizzi l'essenza più vera di se stesso questo non va confuso in senso egocentrico perché lo so che all'interno del cristianesimo alcuni non riescono a leggere questa cosa non è che l'uomo l'ego diventa Dio l'individuo l'anima si fonde si perde si abbandona torna alla sorgente è in quel senso che l'uomo è Dio ha una scintillina divina che deve prendere fuoco e bruciare le polveri deve bruciare tutti i limiti e le impurità dell'egocentrismo quindi la vera vita è è questo amore questo tipo di amore che non trova più nessuna motivazione per essere noi abbiamo sempre la mente sino a quando ha le sue forme le sue strutture vive sempre dentro delle logiche l'amo perché è meravigliosa a parte che quando siamo profondamente profondamente innamorati chiedere ad una persona innamorata perché ama quella donna o quell'uomo di solito che risposta vi dà? alza le spallucce la risposta è il suo stesso volto la risposta è il silenzio non c'è un motivo non riesce a trovarlo dirà cose sciocche tipo è meravigliosa mi fa sentire da Dio si usa questo termine che è significativo sono finito sono finito da Dio a casa di Dio il guaio è che poi lentamente la mente che cerca sempre cause effetti controllo motivazioni il più delle volte riprende il controllo allora trova motivazioni costruisce progetti vuole la continuità nel tempo ed ecco allora che subentra la paura di perdere la paura di non avere più quel tipo di pace perché tu sai che da un lato c'è questa pace questo sentirsi da Dio dall'altra parte ci sei quel tu che conosci che è inquietante torno ad essere io quel poveraccio che ero prima che era infelice arrabbiato per il lavoro per qualunque cosa adesso che sono innamorato al lavoro mi licenziano e danzo lo stesso dico domani troverò un altro lavoro le persone profondamente innamorate hanno una fiducia incredibile nel domani e lì la mente se non è stata sciolta il ramo spurio di coscienza la falsa identità se non è stata sciolta è sempre lì dietro e inizia a insinuare il dubbio la paura ma posso perdere questa persona allora la devo controllare può insinuarsi e creare continui confronti guarda quell'uomo guarda quella donna è meglio di me quell'uomo è più affascinante di me ma io non valgo tanto lei si potrebbe innamorare dell'altro uomo allora io la potrei perdere io non sono all'altezza alla sua altezza non sono all'altezza di lui ed ecco la gelosia ecco il desiderio di costruirsi qualcosa che ci renda più potenti di lui dell'altro di questo ignoto che costruiamo nella nostra mente allora un lavoro più importante una macchina più grande in palestra dalla mattina alla sera perché fisicamente sono meglio di lui e quella cosa che era nata miracolosamente quell'amore incondizionato lentamente diviene condizionato oltre ogni modo e nell'arco di pochissimo viene ucciso viene ucciso dall'ego dall'antagonista da satana questo è il senso senza entrare in esoterismi strani la mente che si identifica ad un corpo e si confronta agli altri e divide è satanica è diabolica divide diavolo significa colui che divide è satanica si continua a contrapporre il contrapporsi e il confrontarsi allora a volte l'amore ci accade proprio quando siamo distratti per fortuna l'ego non è in attività boom e ci innamoriamo di una persona se non ci impegniamo a svanire totalmente in quel in quell'amore a sciogliere completamente il ramo spurio di coscienza la nostra identificazione alla povere piccola idea di noi stessi di essere un corpo ecco che tutto poi marcisce quindi la vera vita è la morte dell'egoismo dell'egocentrismo inteso in questo modo ed è un lavoro morire noi stessi ogni giorno per lasciare che l'acqua limpida nuova della vita che accade in ogni istante ci attraversi ci travolga Krishnamurti in uno dei suoi taccuini mi pare scrisse no non è un taccuino è stata posta questa domanda che cos'è la vita su due righe però sono interessanti anche il modo in cui interpella il suo pubblico dice ok cos'è la vita allora cos'è la creazione tutto ciò che abbiamo di fronte il creato la vita dell'albero la vita del piccolo filo d'erba la vita l'origine della vita cos'è qualcosa che vive quello che vive voi potete ucciderlo ma la vita è sempre lì in qualcos'altro questa frase è importantissima quello che vive potete ucciderlo ma la vita è sempre lì in qualcos'altro a mio avviso qua intende aspettate forse finisco lui qua provoca e dice non dite sì o no dice al suo pubblico ecco adesso che vi ho detto che ciò che vive non potete ucciderlo ma è sempre lì in qualcos'altro allora qualcuno di voi starà dicendo ma cosa dice no ciò che hai ucciso è ucciso non è in qualcos'altro e lui dice ma non iniziate a dire no oppure sì sì bellissimo è bellissimo la vita è sempre in qualcos'altro non fate questo lasciate che la mente sia in silenzio stia in silenzio lasciate la percezione profonda stiamo per affrontare con la nostra indagine con questa introspezione con la nostra osservazione con la consapevolezza l'assoluto qualcosa di veramente meraviglioso l'assoluto è ciò che l'essenziale oltre a ciò non bè nulla è il tutto l'assoluto non è una ricompensa non ve lo potete portare a casa per usarlo qui probabilmente fa una pausa e poi dice aspettate che sia io a rispondere cos'è tutto ciò cos'è questo assoluto allora provo un po' a decriptare il messaggio lui dice l'assoluto non è una ricompensa tornando alle mie parole di prima quell'amore che affiora che ci colpisce quando siamo distratti per fortuna come diceva De Mello la vita è qualcosa di meraviglioso che ci accade mentre siamo intenti a fare altre cose non la cosa che noi programmiamo di fare la vita allora quell'amore che ci colpisce che ci può sciogliere non è un qualcosa che tu guadagni fai sei bravo conquisti si usa conquisto quell'uomo conquisto quella donna no al massimo sei stato conquistato ma non da quella donna delle sue azioni dalla presenza magari una donna non ti sta neanche corteggiando non gliela frega assolutamente niente di te vieni conquistato allora dice l'assoluto pensate non nell'amore che provate verso una donna ma iniziare a provare questo senso di fusione profonda con la vita con tutto ciò che c'è e non esserne separati non essere sempre impauriti non potete agguantarlo o fare un percorso e venite ricompensati possiamo fare un percorso per scioglierci per abbattere tutti quei muri che ci impediscono di essere non due indivisi è importante non è un guadagno non è una conquista se io mi sciolgo un cubetto di ghiaccio che si scioglie cosa ha conquistato diviene acqua e poi magari lo scaldiamo e diviene vapore leggerezza questo esempio da duri che siamo egoici un po' di calore ci scioglie cosa hai conquistato è accaduto hai permesso diciamo che ti sei messo al massimo vicino ad una fiamma e poi rimani su quella fiamma ed evapori è un po' anche una buona metafora per il corpo ghiaccio se sei solo corpo sei ghiaccio se ti raccogli interiormente divieni sempre più liquido divieni sempre più per certi versi morbido accogliente riesci ad adattarti alle situazioni e trovare soluzioni come l'acqua l'acqua se trova un ostacolo gira intorno ma va verso il mare se ne frega non è che ah guarda qui c'è un albero che mi si oppone adesso faccio una guerra con l'albero l'acqua non ha queste resistenze tipiche invece della dimensione materia l'ego materia mi stai fermando nel mio progetto ti devo distruggere no diventi interiormente diventi sempre più acqua sempre più canna di bambù che si piega questa metafora e poi arriva il punto di evaporare il corpo muore abbandoni completamente tutto eppure quell'acqua dov'è? non è che è sparita si è trasformata ed è impalpabile è invisibile eppure c'è però si è riconnessa non ha più nessuna forma non la vedi più questo è un percorso di morte delle barriere del confinamento del limite e pertanto una realizzazione dell'assoluto che non è una cosa che tu conquisti perché tu muori prima infatti diceva quel che vive voi potete ucciderlo ma la vita è sempre lì in qualcos'altro potete uccidere questo corpo ma la luce che sta dando possibilità a questo corpo di parlare e fare i ragionamenti che affatica fa ma fa fatica la mia mente che potrebbe essere molto più libera molto più capace la luce che c'è dietro quando questo corpo si chiuderà i battenti chiuderà le saracinesche degli occhi quella luce sarà sempre presente allora dice potete uccidere questo corpo ma quella luce che sta dando vita a questo corpo darà vita ad un'infinità di altre forme di altri corpi quindi qual è la nostra preoccupazione la nostra preoccupazione è che io sono unicamente questo corpo è per quello che ho fatto l'esempio all'inizio quando siamo profondamente innamorati e siamo morti a noi stessi perché siamo come più veramente trasportati e sciolti nella presenza dell'altro che amiamo noi siamo disposti a morire perché la vita continua dell'altra persona mi ricordo Terzani che prima di morire qualcosa l'aveva realizzata qualcosa di profondo dentro di lui disse io sto morendo ma che importanza ha continua la vita per l'ego questa frase non è bella eh no come io muoio continuo la vita io devo continuare no bisogna capire che cosa ha realizzato in quel punto l'uomo in quel caso l'uomo Terzani lui e la vita sono la stessa cosa che importanza ha io muoio come io questa cosa che non sento nemmeno più non è mia questo ego questo io che cos'è è un accumulo di memorie quello che è stato prima quello che ho vissuto che ho sofferto che ho guadagnato Terzani era di fronte alla morte con un tumore allora ha iniziato ad indagarsi a sentirsi e c'è una presenza qui è sempre presente questa presenza e non sono io l'io è un'aggiunta è quando ci cristallizziamo e ci leghiamo troppo a cosa ha fatto questo corpo al mio nome alle mie acquisizioni potremmo entrare più in dettaglio in questa analisi e vedere come la pura consapevolezza percependo un corpo e sono le sensazioni che abbiamo attraverso il nostro corpo ripensate la costruzione che avete ogni giorno di ciò che vi accade quando vi svegliate la mattina Nisargadatta diceva la prima cosa che scopri è che sei presente e subito dopo inizia io sono presente è un'aggiunta la mente quando tu ti svegli il primo momento di risveglio non c'è ancora questa forte sensazione di io sono presente e che significa ecco il mio corpo il letto spazio tempo all'inizio non si ha questo momento infatti si dice anche che i momenti migliori per meditare sono all'alba e al tramonto i due momenti dove la luce è soffusa le cose non sono ben definite delineate perché nel pieno della luce tutto è definito nel buio non si vede nulla sono momenti di transizione anche dell'energia della coscienza umana questo aggancio tra consapevolezza e identità nostra nella sua prima costruzione accade nel neonato il neonato all'inizio è pura presenza poi iniziamo ad introdurgli inizia ad avere percezione del corpo un po' alla volta inizia ad avere distinzione dei corpi perché in un primo momento non distingue nemmeno ha solo delle percezioni sensoriali caldo freddo dolore quiete poi iniziano ad interagire concetti e sensazioni il concetto ad esempio mamma calore cibo seno bellezza caldo bene papà papà boh papà cosa fa papà simpatico papà fa felice la mamma porta papà a casa adesso va scusate maschilismo questo papà fa la mamma la mamma porta a casa fate come volete comunque il concetto è questo e poi inizia la costruzione dell'idea di sé del bambino attraverso lo specchio degli altri figlio mio bimbo mio marchino mio franceschino mio io francesco e la mente inizia a costruire la personalità il suono attraverso la maschera il guaio è che a certo punto si identifica profondamente a quella maschera io francesco questo corpo la mia mamma il mio papà loro litigano allora la figura femminile è maltrattata dalla figura maschile o la figura maschile è continuamente svilita dalla figura femminile abbiamo bisogno degli archetipi iniziamo a introdurre archetipi io uomo mi identifico all'uomo o se no mi identifico alla donna poi sono un uomo che diventa una donna e faccio i miei problemi c'è tutta questa costruzione di identificazione che è aggiunta e per quello che dico vabbè andate in terapia 50 anni e vedete se volevate essere uomini donne o se il papà ha fatto danno ma il salto quantico della spiritualità va all'origine se meditiamo se lasciamo scorrere tutti i pensieri cerchiamo di ritornare alla pura presenza che eravamo appena nati che siamo prima di risvegliarci completamente che siamo nel momento in cui ci stiamo abbandonando al sonno scopriamo che tutto può collassare in un unico istante o lentamente facciamo collassare sempre più parti di questa impalcatura poi qualcosa la vogliamo ottenere ma certo finché c'è vita e c'è corpo nessuno ti cancella le tue memorie ma non ne sei più identificato se hai avuto un padre svalutante lo sai ma tu non ci sei più capisci? capite? tu non sei più io Francesco svalutato c'è semplicemente la registrazione di una persona definita padre che svalutava chi? era svalutante svalutava è completamente diverso tu devi esistere come identità che risponde a quella svalutazione per essere identificato a quella dinamica ora posso costruirti un pensiero positivo e dirti no ma tu sei una persona meravigliosa tu vedi quante cose hai fatto nella tua vita non ti devi identificare quella è una cosa vecchia ma in realtà non sto andando alla radice togliendo la possibilità di di dipendere sempre il pensiero positivo non serve a niente perché ti sto dando sempre la possibilità di essere demolito si positivo e quando la vita va male sarò positivo oppure guarda quanto sei bravo ti devo apprezzare ma se dipendi dall'apprezzamento sei stato bravo sei sempre intenso devo essere bravo al lavoro e mi apprezzano ma troverai nella tua vita qualcuno che di nuovo non ti apprezzerà e allora a quel punto si reinnesca il tipo di relazione di dipendenza ma in realtà sei dipendente dall'apprezzamento e sali sei dipendente da colui che ti disprezza e scendi demolire quel grumetto di identità di personalità il suono attraverso la maschera c'è una maschera non è il nostro volto originale è liberazione è vera vita è amore amiamo profondamente quando diveniamo amore che in un certo senso non è un divenire ma è alezzeia quella verità che si svela l'amore si svela da sé e come dicevo prima l'amore vero ci ha sempre colti distratti siamo sempre stati travolti non so se io credo che sia un'esperienza un po' trasversale quella persona che vi piaceva tanto per cui avete lottato tanto per averla poi alla fine è una delusione incredibile quella relazione che nasce per caso e ad un certo punto entra in intimità ad un certo punto vi travolge vi fa innamorare davvero uno è l'amore diciamo che segue la strada del disvelamento la verità che si svela l'ezzeia e l'altro è la strada della verità che deve essere appurata orzotes adesso ti conquisto mi piaci è controllata è un po' la dimensione scientifica scientista e la dimensione poetica dell'abbandono spirituale mistica bene signori miei la vita dell'albero la vita del piccolo fiore è la vita quel che vive voi potete ucciderlo ma la vita è sempre lì in qualcos'altro ci vediamo al prossimo video grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri